Dobbiamo ringraziare il cielo tutti i giorni per quello che stiamo vivendo adesso, siamo tutti estremamente fortunati ma non ce ne rendiamo conto e queste esperienze, quella rivederci che si dà a tutti, credo sia una forza che ti riempie il cuore ma ti fa capire tanto nella vita. Però è bello quando si riesce a donare un sorriso a bambini più piccoli, è sempre una cosa bella, poi io sono un tipo che non cerco di trovare sempre la tragedia, oggi viviamo nel presente, quello che sarà domani non lo sappiamo, quando sarà il domani, oggi siamo qua al presente e ci viviamo questi ragazzi di tenere età e cerchiamo di dargli un sorriso adesso. Io sono legatissimo con Agnazio e Piero all'Agbe e a tutto e ringraziamo per tutto il lavoro che fate, tutti i giorni, stando vicino a questi bambini e ai genitori che hanno bisogno di supporto, soprattutto morale probabilmente, i bambini sono naturalmente inconsapevoli di quello che succede, ma i genitori è chiaro che hanno bisogno di altrettanta forza e noi promettiamo di ritornare. Ecco, anche questa volta. Lo volevo vedere e questa era l'occasione per rifissare il luogo. Assolutamente, ogni volta che i ragazzi, Ignazio e Piero sono qui in zona per un concerto, per qualsiasi altra cosa, noi promettiamo di tornare, per dare un sorriso anche a voi, per stare insieme, che è la cosa più importante.